Da oggi Duccio testimonial dell'Orso Marsicano, testimonial quindi dell'Abruzzo e di un nostro esemplare importante che è l'orgoglio di questa regione. Come hai accolto questa proposta? In maniera oltre che gioiosa, veramente non immaginavo poi di commuovermi nel momento in cui ho iniziato a fare lo spot perché veramente pensare di essere l'addetto stampa dell'Orso mi ha commosso, poter dire sì so che mi volete bene però stiamo ognuno nel proprio territorio, nel proprio habitat e poi che ne capisce l'Orso e che gliene frega dei click, dei video, del rincorrersi, dei like che non mi veniva la parola e soprattutto il cibo, lui c'è quello suo, se lo deve cacciare perché deve continuare a essere un orso e peccato che abbiamo visto forse troppi cartoni animati del parco di Yellowstone. Qui stiamo in Abruzzo e cerchiamo di rispettarlo perché è forse una delle ultime grandi risorse naturali che abbiamo. Ma cosa bisogna fare se si incontra un orso? Allora lavoriamo da diverso tempo a questo spot perché crediamo fermamente che bisogna diffondere la conoscenza sull'orso massicano e sul comportamento da tenere in caso di incontro. Vediamo ancora purtroppo anche in Abruzzo tanti comportamenti sbagliati orsi che vengono inseguiti con le macchine, che vengono accerchiati dentro i paesi, cani non custoditi in modo corretto e cibo che viene lasciato intorno ai paesi in maniera diciamo sbagliata o forse anche volutamente. Tutto questo è sbagliato. Dobbiamo far arrivare il messaggio che invece incontrare un orso è un'emozione bellissima come dice Induccio nello spot che abbiamo creato ma che dobbiamo rimanere fermi, aspettare che l'orso passi, non inseguirlo, non andare per forza alla ricerca di una foto o di un commento sui social perché questo all'orso fa male.